assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh buongiorno ragazzi come state tutto al posto allora ragazzi facciamo simulazione esami cpc merci la scheda numero 79 ok perché abbiamo fatto da 1 fino a 78 adesso dobbiamo fare 79 poi ancora dobbiamo fare tutti quelli che sono rimasti perché sono 120 schede da fare secondo me ormai mancano poco ok 120 schede iscrivetevi condividete i vostri amici mettete un like non facciamo solo c qui ci facciamo anche i battenti b c quindi veramente vi servirà tutti quelle che stiamo facendo iscrivetevi come vedete i vostri amici questo canale ok iniziamo subito l'automobilista deve essere di tipo diffuso e deve rivolgersi in succensione rapidissimi su tutti gli elementi del traffico che li circondano vero ok un po' difficile però facciamo tutto la forma societaria di un'impresa di autotransporto non dipende dalla dimensione ma solamente dalla tipologia di transporto falso dipende tutti due l'attraversamento della frontiera con stati aderenti alla convenzione di schengen ma non alle UE comporta controlli sull'identità della persona ma non comporta controlli diagonali e limitazione all'importazione ed esportazione di dinaro non UE non comporta controlli diagonali non UE comporta controlli diagonali ok allora l'attraversamento frontiere con gli stati aderenti alla convenzione di schengen convenzione di schengen ma non all'UE ok comporta sull'identità no falso ok nel sovraesterso il veicolo curva più di quanto valuto del condicente vero la corretta alimentazione di un condicente è costituita di alimentari leggeri ed energetici vero alcol alcol e sostanze sub efficienti non devono essere assunti durante la guida perché possono causarne aggressività sotto valutazione del veicolo vero non dobbiamo assumere alcol la forza di attrito che sviluppa tra pneumatici e asfalto favorisce la dimensione dei consumi falso l'Irland è uno stato membro UE ed è interno allo spazio Schengen Irland l'Irland secondo me è falso però può essere vero il container e le case mobile hanno dimensioni e caratteristiche stabilite delle singole aziende di transbordo falso nelle cmr convenzione sul contratto di autotransporto internazionale di merci il vettore che non ha la possibilità di eseguire la disposizione di del mittente deve comunicare al mittente vero per forza dobbiamo comunicare a varietà di forza frenante i farine a disco si surriscaldano meno di quello a tomburo secondo me è vero tra i principali vantaggi del transbordo su gomma via la possibilità di evitare il traffico no falso il rendimento ottimale del motore sia in corrispondenza di un numero di giri vicino a quello della coppia massima vero i soggetti giuridici coinvolti nel contratto di trasporto su strada comprendono il proprietario del deposito della merce falso la normativa in materia di tempo di guida e di ribosso brevede un periodo di guida giornaliero di 9 ore che può essere 10 ore al massimo tre volte alla settimana no massimo due il condicente è considerato sotto l'effetto di sostanze stubefficienti se l'analisa del sangue rilevano tracce di tali sostanze vero se il baricentro del veicolo risulta posizionato verso l'alto rispetto alle sede stradali diminuisce l'effetto della forza centrifuga secondo me falso l'assunzione l'assunzione eccessiva di alcol durante i periodi riposti obbligatori costituisce infortunio sul lavoro falso perché non costituisce alcol infortunio deve deve astenersi alla guida della guida che ha assunto farmaci che possano compermettere la capacità di guida vero la marcia deve essere sistemata sul veicolo in modo tale che non siano superati i limiti di ma i limiti di massa e di sagoma previsti delle vigente norme vero i quattro tipi di carta tachigrafico sono i soggetti carta del condecenti carta dell'impresa carta dell'officina e carta della camera di commercio falso il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza della sospensione vero per favoreggiamento dell'immigrazione clandestini ebreviste la reclusione la multa e confisca del veicolo vero la lezione ad una la lezione ad una mano subito del condicente durante l'opressione di aggangio del rimorchio è considerato infortunio sul lavoro vero il condicente è considerato sotto l'effetto di sostanze stube efficiente solo se l'analisi di laboratorio lo attestano laboratorio lo attestano lo attestano solo per il trasporto di terra sabbia e materiali inerti si utilizzano di norma veicoli classificati in mezzo di opera muniti di cassone ribaltabile vero i veicoli ibridi splitti sfruttano per la trazione solo il motore elettrico e sono muniti di sei ruote motrice falso il trasporto ferroviario rispetto a quello stradale è meno adatto al mercato porta a vero la logistica risolve una serie di problematiche legate alla monotensione dei veicoli no falso l'aumento del carico sull'asse posteriore del veicolo aumenta la sottosterza sottosterza il carnet tir permette di semplificare le formalità dogonali per il trasporto effettuato con rottura di carico falso ai fini della normativa sul uso del tachigrafico è considerata altra mansione ogni attività svolta per altro dottore di lavoro nel ambito al di fuori del settore dei transporti vero nell'ambito della sicurezza sul lavoro per rischio si intende la probabilità che un incidente o un infortunio si verifica determinando un danno vero la cmr la convenzione relativa a il contratto di trasporto nazionale di merce su strada falso internazionale le licenze comunitarie necessarie per il trasporto all'interno dell'UE di merce conto proprio no falso i trasporti delle merce possono avvenire do con diversa modalità che sono alternative e non complementari falso i trasporti delle merce si distinguono le vie d'acqua ed aree vero nel campo dell'auto trasporto internazionale il cabotaggio e la possibilità per un trasportatore appartenente ad uno degli stati membri di effettuare trasporto nazionale in un altro stato o è vero nel disporre più colli sul piano di carico della carrosseria bisogna distribuirle in maniera il più possibile uniforme vero l'accordo ATB accordo internazionale trasporto di rate debribili riguarda il trasporto delle merce pericolose ATB è no falso riguarda merci che devono che possono rompere capito è necessario aumentare la forza di trazione con l'aumentare del carico vero la lettera di vettura internazionale CMR è ridatta in un numero minimo di quattro esemplari di cui il secondo e per il proprietario delle merce 3 o 4 è no può essere vero i modelli di simulazione del traffico producendo il fenomeno fisico forniscono estime attendibili ed è accurata in situazione anomale vero lo stress psicologico non ha influenza negativa sulla guida falso se un'autovettura e un autotreno si incrociano su una strada di montagna dove non sia possibile il loro transito contemporaneamente l'eventuale manovra di retromarcia commette l'autovettura vero il documento da ut1 l'ingresso degli spazi doganali va presentato al funzionario di dogana funzionario falso l'insornarizzazione l'insornarizzazione dalla cabina di guida migliora viaggiando con i finestrini aperti falso l'autorità deve essere avvisata se la caduta di materiali sulla strada è avvenuto di note e non se è avvenuto di giornata falso in caso di guasto del tachigrafico il condicente deve provvedere alla registrazione manuale sul retro del disco vero e transoporto in condizione di eccezionalità il trasporto di cose individibili che per loro dimensione determinano accedenza rispetto ai limiti di sagoma fissati del codice della strada vero lo straniero extra ue che entra legalmente in italia entro 30 giorni lavorativa dovrà richiedere il permesso di scegiorno falso non 38 giorni il posto di guida ergonomico se la permanenza se la permanenza se la permanenza prolungata la guida non provoca non provoca non provoca affaticamente eccessivo vero oltre all'elettricità al met al metano più metano e altra anche idrogeno è considerato un più un combustibile che contribuisce alla decorbonizzazione vero in salita a varietà dipendenza all'aumentare del carico necessario inserire una marcia più alta falso il paricentro varia secondo che il veicolo percorrere un rettilineo o una curva no falso solo curva l'impianto frenante olio pneumatico contiene un pompa dell'aria ad ingrenaggio no lo so falso la segnalazione di pericolo tramite il segnale di veicolo fermo si rivolge ai condicenti che sopraggiungono sul luogo dell'incidente vero l'acquilibratura non corretta dei ferini può dipendere del diverso consumo dei ferodi di uno stesso asset secondo me vero gli ADAS sistemi avanzati di assistenza alla guida sono sistemi che tendono a modificare le scelte di guida comportamenti al volante in funzione del contesto che influisce la marcia del veicolo nel caso di incidenti stradali il condicente deve prima di tutto assicurarsi della propria incolumità vero l'energia cinetica aumenta nella fase di frenatura del veicolo falso l'uso dell'auto articolato è particolarmente indicata quando si trasporta una segua quantità di merce falso il transito diagonale in regime TIR è applicato alle merce trasportata su veicoli stradali e con contenitori che attraversano i stati che aderiscono alla convenzione TIR vero? per trasportare fiamme ferie fiamme ferie è necessario un documento che certifichi la posizione delle merce in marito all'accesso vero? tra i principali vantaggi del transborda su gomma via l'aumento del gas era falso? tra le parti di un contratto di transbordo di merce vi sono proprietario delle merce caricatore, mittente, vettore e destinatario vero? l'intassamento del filtro dell'aria del motore provoca la riduzione dell'efficienza del motore filtro dell'aria secondo me è vero l'accensione della temperatura del liquido di raffreddamento del motore può essere causata dalla rottura di una cinghia può essere vero il manometro dell'impianto frenante indica la pressione nei serbatoi dell'aria dell'impianto frenante la pressione vero vediamo non lo so la resistenza aerodinamica all'avanzamento del veicolo è indipendente dalla velocità falsa perché dipende anche allora ragazzi abbiamo finito tutte le domande 70 domande abbiamo risposto entro 14 minuti non lo so adesso vediamo il risultato quando abbiamo sbagliato e quanti abbiamo messo bene ok se noi sbagliamo più di 7 domande abbiamo bocciato ok se noi sbagliamo meno di 7 o 7 massimo abbiamo superato l'esame adesso vediamo subito senza perdere tempo abbiamo sbagliato uno ragazzi perché abbiamo sbagliato una vediamo qual è ok amici miei abbiamo sbagliato qua 42 le lettere di vettura internazionale CMR è ridatta in un numero minimo non un numero minimo era massimo di 4 esemplari di qui il secondo era 3 3 3 erano comunque abbiamo sbagliato questo è il secondo per il proprietario della merce ok era vero ho messo falso ok va bene ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie a tutti.